Ciao a tutti carissimi amici ed amiche e benvenuti in questa nuova lezione del corso di latino per imparare le meravigliose lingue latine ed inglese con il metodo dell'Università di Cambridge Detto questo iniziamo velocemente Postquam Felix fabulam narravit Cecilius et ospites plauserunt After Felix told the story Cecilius and the guest applauded Dopo che Felix raccontò la storia Cecilius e gli ospiti applaudirono Tum omnes tacebant et aliam fabulam expectabant Then all were silent and waited for other story Poi tutti tacevano e aspettavano un'altra storia Subito clamorem audiverunt Suddenly heard a shout or uproar All'improvviso ascoltarono, sentirono un tumulto, un chiasso, una specie di chiasso Omnes ad atrium festina verunt Ubi Clemens stavat Tutti si affrettarono all'atrio Dove stava Clemens? Hercle, Hercle Quid est? Cur tu clamorem facis? By Hercules What is? Why you make an uproar? Per Hercules Cosa è? Perchè tu fai chiasso? Deciens, decens Quid est? What is? Cosa è? Deciens est mortus Deciens is dead Deciens è morto Quid mortus? Oh no What? Dead? Oh no Cosa? Morto? Oh no Due servi intrant Two slaves enters Due schiavi entrano Quid dicis What says? Cosa dici? Dominus meus Ad villam tuam veniebat Dominus gladiatorem Prope anfiteatrum conspexit My master Come to your house Il mio maestro veniva verso casa tua The master catches sig of the gladiator near the anfiteatrum Il maestro intravide il gladiatore vicino l'anfiteatrum Gladiator dominum terruit Quod gladium ingentem vibrabat The gladiator frightened the master Because was brandishing a hug sword Il gladiatore spaventò il maestro Poiché stava brandendo una spada enorme Tum gladiator clamabit Tu me non terres Leo tu me non terres Then the gladiator showed You me not frightened Lion You me not frightened Poi il gladiatore gridò Tu a me non Tu non mi spaventi Leone tu non mi spaventi Leones amicum meum in arena Ne caverunt Sed tu me non terres The lions killed my friend in arena But you me not frightened But you me not frightened I leoni uccisero il mio amico Ma tu non mi spaventi Decens valde timevat Tu es insanus Inquit dominus Ego non sum leo Ego non sum leo Sum homo Deciens was very afraid You are mad You are crazy Said the master I am not lion I am not a lion I am a man Decens temeva molto Tu sei pazzo Disse il maestro Io non sono un leone Io sono un uomo Gladiator tamen Dominum ferociter petivit Et eum ad amphitheatrum Traxit Dominus per territus clamavit Whoever the gladiator Fersely attacked the master And dragged him to the amphitheater The master terrified shouted Il gladiatore comunque Ferocemente Attaccò il maestro E lo portò All'anfitheatro Il maestro Gridava O gridò Per territo Terrificato Clemens clamorem audivit Clemens quod fortis erat Amphitheatrum intravit Decentem in arena conspexit Dominus meus erat mortus Clemens heard the uproar Clemens, because he was brave Entered in the amphitheater Decent Catches sig of decens in the arena My master was dead Clemens ascoltò il grido Clemens, siccome era forte Entrò nell'anfitheatro Decent Intravide Intravide decens nell'arena Il mio maestro era morto Ego rem intellego I understand the thing The story Or the truth Gladiator erat pugnax Io capisco la verità Io capisco la questione Il fatto L'accaduto Gladiator erat pugnax Pugnax erat Gladiator notissimus The gladiator Was pugnax Pugnax was A very well Known Gladiator Gladiator era pugnax Il gladiatore era pugnax E pugnax Era un Famosissimo Gladiatore Pugnax Olim in arena Pugnabat Et Leo Pugnacem Necavit Pugnaam once Fighted 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 In the arena And The lion Killed Pugnax Pugnax Una volta Lotava nell'arena E il leone Uccise Pugnax Pugnax Non vivit Pugnax Est umbra Umbra Decentem Necavit Pugnax Not Not was Alive Pugnax Is a ghost The ghost Killed Decentem Pugnax Non visse Pugnax E un fantasma Il fantasma Uccise Decentem Adesso come facciamo sempre Leggeremo un intero testo Primo in latino Poi in inglese E poi in italiano Postquam felix fabulam narravit Cecilius et ospites plauserunt Tum omnes tacebant Et aliam fabulam expectabant Subito clamorem audiverunt Omnes ad atrium festinaverunt Ubi clemens stabat Ercle Quid est? Cur tu clamorem facis? Decens Decens Quid est? Decens est mortus Quid? Mortus? E eu Duo servi intrant Quid dicis? Dominus meus Ad villam tuam veniebat Dominus gladiatorem Propre anfiteatrum Conspexit Gladiator dominum terruit Quod gladium ingentem vibrabat Tum gladiator clamavit Tu me non terres, Leo Tu me non terres Leones amicum meum In arena ne caverunt Sed tu me non terres Decents valde timevat Tu es insanus Inquid dominus Ego non sum Leo Sum homo Gladiator tamen Dominum ferogit Erpetivit Et eum ad anfiteatrum Traxit Dominus perterritus Clamavit Clemens clamorem audivit Clemens quod fortis erat Anfiteatrum intravit Decentem in arena Conspexit Dominus meus Erat mortus Ego rem intellegu Gladiator erat pugnax Pugnax erat Gladiator notissimus Pugnax olim in arena Pugnabat Et Leo pugnacem ne cavit Pugnax non vivit Pugnax est umbra Umbra decentem ne cavit After Felix Told the story Cecius And the guests Uploded Then All Were silent And Wight Wighted For Other story Suddenly Heard A uproar All Hurryed To the atrium Where Stood Clemens By Hercules What is Why you Makes A proar Decentem Decentem What is Decentem Is dead What Dead Oh no Two slaves Enters What said My master Came To your house The master Catch Catches Of Gladiator Near the amphitheater The gladiator Fractened The master Because Was brandishing Was brandishing A hog Sword Then The gladiator Showed it You May not Fractance Lion You May not Fractness The lions Killed My friend In arena But But You Not Fractened But You May not Fractance Decentem Was Very Afraid You Is Mad You Is Crazy Said The master I Am Not A lion I Am A man The gladiator Whoever Killed Farsely The master And Dragged Him To The amphitheater The master Shoulded Terrified Clemens Heard The uproar Or The shout Clemens Because Was brave Entered To The amphitheater Catches Sick Of Dachins In the arena My master Was Dead I Understand The truth The gladiator Was Punyaks Punyaks Was Gladiator Was A Very Well Known Gladiator Punyaks Once Fighted In Arena And Lion Killed Punyaks Punyaks Not Was Alive Punyaks Was Is A Ghost The Ghost Killed Descens Carissimi Amici Spero Che Vi Sia Piaciuta Questa Lezione Se Così Mettete Like Iscrivetevi Al Canale Commentate E Condividete Adesso Vi saluto E vi Auguro Una Splendida Giornata A Tutti Vi Che Mi Ascoltate E Vi Ringrazio Per La Vostra Attenzione Ciao